Musica Buonasera, in apertura di telegiornale ricordiamo il decennale della tragedia dello sbarco di migranti a Lido Verde a Catania. Sono trascorsi dieci anni da quel tragico sbarco di circa 200 egiziani arrivati fino alle porte di Catania. Sulla ranire della playa furono trovati sei cadaveri. Sentiamo nel dettaglio. Dieci anni da quel terribile giorno. Sei vite spezzate in mare a pochi metri dalla riva, davanti agli occhi atterriti di poche persone. Tra loro Dario Monteforte, titolare dello stabilimento balneare di Catania, alla playa, davanti al quale il 10 agosto del 2013 un barcone proveniente dall'Egitto con a bordo circa 200 persone si incagliò in una secca. Tra loro giovanissimi sei, quelli restituiti da questo mare, in un ultimo disperato tentativo di approdo verso una nuova vita. Una scena che si ripete giorno dopo giorno, con migliaia di migranti disperati in fuga da fame, povertà e morte. La notte scorsa circa 600 a Lampedusa, a bordo di 15 barchini. Ieri invece la notizia che qualche giorno fa, in 41, sono stati visti morire in mare. Una lista infinita per una ferita che sanguina e che tracciano a linea di confine tra chi ha avuto la sfortuna di nascere in terre di guerra e chi no. Per me è stata molto forte. Forse però la cosa che più mi è rimasta impressa nella mente è l'immagine di questo ragazzo il quale, disteso a terra, il quale nel tentativo di rianimare, nel tentativo di una rianimazione inutile perché comunque il ragazzo era già esanime, questo ragazzo mi fissava con gli occhi sgranati e la cosa per me è stata particolarmente angosciante perché questi occhi mi fissavano e sembravano gridare una rabbia per una vita perduta proprio nel momento in cui questo ragazzo pensava di averla afferrata. Tuttavia vorrei esprimere un pensiero secondo me importante. Ovviamente è doveroso ricordare questa data e celebrare questa tragedia ma non dobbiamo dimenticare che ogni giorno decine e decine di uomini, donne, bambini abbandonano la propria terra affidandosi a un destino spesso beffardo alla ricerca di un'esistenza migliore scappando dai loro paesi di origine in cui vi sono pressione e violenza. Non dobbiamo dimenticare questa realtà che esiste un'umanità che vive al di là di un confine immaginario tra noi, mondo occidentale e loro e dobbiamo quindi fare in modo che questa celebrazione non diventi vuota retorica. Cambiamo argomento la promozione dei distretti urbani del commercio come antidoto alla mortalità delle imprese in Sicilia. Lo sottolinea con forza l'Asso Esercenti. Situazione drammatica quella che emerge dalla report dell'ufficio studi di Asso Esercenti Sicilia circa la nati mortalità delle imprese nell'isola. Le iscrizioni 116.899 nel periodo 2018-2022 hanno registrato un andamento decrescente. Il calo maggiore risulterebbe proprio nell'ultimo anno in cui le iscrizioni influenzate prima dalla recessione dovuta al Covid e poi della crisi economica europea a seguito della guerra russo-ucraina hanno registrato una variazione tendenziale pari almeno 5,7% su base annua. In Sicilia negli ultimi 5 anni mancano all'appello per il settore commercio oltre 32.000 imprese e ne sono nate invece oltre 16.000. Il dato è allarmante ciò vuol dire che per ogni impresa che nasce necessitano due. Le cause sono molteplici ci riferiamo soprattutto alla crisi economica alla pandemia alla guerra in Ucraina al calo dei consumi al mutamento delle abitudini da parte dei consumatori e quindi gli acquisti online alle tasse alla burocrazia all'eccessiva pressione fiscale. È chiaro che il commercio è un settore vitale per la nostra economia per l'economia siciliana. Quando cessa un esercizio di vicinato vengono meno soprattutto quegli elementi che riguardano le conoscenze e la cultura del lavoro difficilmente recuperati. Le cessazioni pare a 100.701 unità per il periodo 2018-2022 hanno avuto una tendenza decrescente fino alla 2021 per poi registrare un aumento significativo nel 2022 con un più 31,8% rispetto al 2021. Contrariamente alle aspettative nell'anno 2020 non si è verificato l'eccesso di mortalità di impresa dovuta agli effetti della pandemia. Per quel che riguarda le iscrizioni di imprese queste hanno riscontrato un andamento decrescente nell'arco temporale considerato. L'appello come a sui esercenti Sicilia che ci sentiamo di fare alla politica è quello di un maggiore utilizzo delle risorse del PNRR mirato soprattutto alla riguardificazione urbana dei centri storici delle città per come dire rilanciare gli esercizi di vicinato e soprattutto la promozione dei distretti urbani del commercio ovvero di quelle aggregazioni di imprese per cercare in qualche modo di stimolare la cosiddetta cultura d'impresa che riguarda soprattutto i centri storici. Le amministrazioni locali possono anche pensare a prevedere degli sgravi fiscali in materia di tributi locali per gli imprenditori e per gli aspiranti imprenditori che decidono di investire nel centro storico ma anche e soprattutto in termini di ricambio generazionale. La politica è chiamata a dare segnali importanti e soprattutto a dare una svolta. Su questo saremo vigili come sempre come abbiamo sempre fatto come assu esercenti e ci faremo promotori di proposte nei tavoli e nelle sedi opportuni della regione siciliana. Ennesimo sitine di protesta dei vigili del fuoco che hanno manifestato stamattina sotto la prefettura di Catania rivendicata la carenza di uomini e mezzi in un territorio martoriato dagli incendi compresi quelli recentissimi e altre calamità. I devastanti incendi delle scorse settimane hanno ulteriormente messo a nudo le carenze del corpo dei vigili del fuoco stamattina ennesima protesta sotto la prefettura di Catania organizzata dall'USB problematiche che riguardano la gestione delle emergenze e la carenza di personali e mezzi nonché la riclassificazione delle sedi pagamenti arretrati e la tutela sanitaria e screening per i vigili del fuoco oltre a riconoscimenti delle malattie professionali fondi straordinari per la manutenzione di attrezzature ancora negli occhi di tutti le scene dei vigili del fuoco stremati dopo gli interventi nelle zone devastate dalle fiamme una problematica che si protrae ormai da tempo e che sinora non ha ricevuto adeguate risposte le emergenze che si sono susseguite nel nostro territorio non ultima quella degli incendi hanno evidenziato ancora una volta come in Sicilia abbiamo una grossa criticità di uomini e mezzi ieri la visita dei vertici del corpo nazionale del sottosegretario agli interni noi come vigili del fuoco non siamo assolutamente soddisfatti perché non è andato per nulla bene il soccorso dispositivo di soccorso in Sicilia perché ovviamente fin quando non accade l'emergenza le risorse sono veramente esigue noi giornalmente chiudiamo i distaccamenti per le carenze di organico anche raddoppiando i turni è sempre lo stesso personale che deve lavorare straordinario e arriva al punto che è estremato veramente le foto e le immagini che si sono viste sono l'emblematica dei vigili del fuoco quando ci sono le emergenze ci arrivano totalmente a collasso tanti sono finiti in ospedale con colpi di calore per lo stress correlato dagli interventi di lavoro non siamo potuti arrivare in tutte le richieste di intervento che la popolazione chiedeva ovviamente la popolazione di conseguenza ci ha anche aggredito perché il bene proprio veniva colpito dall'esterparia dagli incendi e noi dovevamo decidere chi dovevamo salvare e chi doveva aspettare questo è lo stato dell'arte nella Sicilia del 2023 noi chiediamo questo alle istituzioni di far arrivare uomini e mezzi all'avanguardia con poca tecnologia e fondi per ripararli perché rimangono se no nelle officine perché se non vengono pagate di conseguenza i mezzi non vengono riparati gli appelli alle istituzioni sono stati tanti e le risposte? le risposte sono quelle vedremo faremo e non sapevo noi vogliamo veramente i fatti vogliamo una tutela sanitaria completa il riconoscimento delle malattie professionali perché l'emblema è proprio quell'immagine del vigile del fuoco catapultato a terra per lo stress correlato dal troppo lavoro svolto in quei giorni e a parlare invece la giunta del comune ha deliberato l'aumento dal prossimo mese delle indennità per il sindaco e gli assessori del presidente del consiglio comunale del capoluogo dell'isola stipendi raddoppiati per sindaco assessori comunali e presidente del consiglio comunale ad aver dato il via libera all'aumento delle indennità mensili la giunta la galla a partire da settembre il primo cittadino della città metropolitana di Palermo guadagnerà quasi il doppio rispetto all'attuale stipendio la busta paga passerà infatti dagli attuali 7.798 euro lordi a 13.800 euro lordi cifra quest'ultima che corrisponde a quella percepita dal presidente della regione al vice sindaco invece spette il 75% dello stipendio del primo cittadino ovvero 10.350 euro rispetto agli attuali 5.263 euro c'è da dire che così non sarà per l'attuale numero 2 del comune e del capoluogo Carolina Varchi la vice di La Galla essendo deputata nazionale di Fratelli d'Italia continuerà a percepire solo l'indennità di parlamentare il resto degli assessori avrà il 60% dell'indennità del sindaco ovvero 8.970 euro lordi finora ne hanno presi 4.562 identica cifra spetta al presidente del consiglio comunale questo adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori locali è previsto da una legge statale che è stata recepita lo scorso anno da un'apposita norma contenuta nella legge di stabilità regionale la quale prevede questo tipo di trattamento per i sindaci delle tre città metropolitane palermo catania e messina a far discutere il fatto che questi aumenti saranno sulle spalle degli enti locali la sicilia infatti l'unica regione del paese dove ogni comune deve prendersi carico degli aumenti nel proprio bilancio a crescere saranno anche i compensi dei 40 consiglieri comunali presenziando a 23 sedute numero che indica il tetto massimo di gettoni si passerà da 1200 euro a 2400 euro netti al mese a catania entra nel vivo il progetto smart park che prevede l'impiego di una somma complessiva di 3,6 milioni finanziata con fondi pon metro i primi 50 nuovi parcometri sono già stati consegnati e il personale della mts li sta prontamente installando sono nuovi parcometri intelligenti dedicati alla sosta sulle strisce blu si tratta di un totale di 240 nuovi strumenti già acquistati tutti di ultima generazione con display dotato della funzione touchscreen l'azienda metropolitana trasporti e sosta ha provveduto ad installare i primi tre in alcune vie del centro di catania largo pocdora via vittorio manuele via vittorio manuele l'orlando e via napoli i nuovi parcometri sono coordinati con tutte le altre misure del progetto smart park dalle telecamere installate per il monitoraggio della sosta ai varchi situate nell'ingresso delle aree pedonali EZTL allo street control con possibilità anche di pagare con il bancomat e a catania domani mattina prima seduta del nuovo consiglio comunale per la poltrona di presidente civico consesso la candidatura di sebi anastasi resta in pol sentiamo si riunirà domani mattina con inizio alle 10.30 il nuovo consiglio comunale di catania i lavori saranno aperti da Daniele Bottino in quanto consigliere anziano il più votato in occasione delle ultime consultazioni elettorali previsto anche il giuramento del sindaco Enrico Trantino già in sella comunque dalla scorsa fine di maggio tra i primi atti quello della votazione del presidente del civico consesso e dei due vicepresidenti sulla poltrona più in vista del consiglio comunale etneo a meno di sorprese dovrebbe tornare a sedere l'esponente dell'MPA Sebastiano Anastasi che ha già ricoperto la carica nella parte conclusiva della precedente legislatura finalmente dopo i 60 giorni il consiglio comunale domani mattina si insederà alle ore 10 e 30 sarò io a presiedere come consigliere anziano quindi è un privilegio un onore poter aprire la seduta cominciano a circolare i nomi con insistenza di colui che sarà poi il presidente di questo civico consesso ritengo comunque che gli accordi di coalizione che sono quelli proprio iniziali saranno mantenuti il signor sindaco comunque sta sicuramente lavorando con i leader dei partiti e si sta cercando di trovare la quadra sia per la presidenza che per le vicepresidenze Sebastiano Anastasi in poll? non sono io a poter o a sapere già se l'amico Sebi diciamo la persona indicata lui è il presidente del consiglio uscente è un esponente del movimento per l'autonomia se sarà il movimento per l'autonomia il partito a cui sarà indicato la presidenza del consiglio e l'MPA darà il suo nome sicuramente non penso che ci saranno problemi c'è comunque tanta voglia collettiva di mettersi al lavoro al più presto sì sì abbiamo proprio il fatto che sono passati 60 giorni e tutti i consiglieri comunali hanno quella voglia di poter dare una mano alla città la città è in grandi difficoltà abbiamo una nuova amministrazione abbiamo il signor sindaco comunque che è totalmente disponibile già a un dialogo diretto col consiglio comunale con tutti i consiglieri comunali c'è una maggioranza molto compatta siamo 30 consiglieri di maggioranza e quindi sicuramente si potrà e si dovrà lavorare per il bene dei cittadini in questi cinque anni quali le priorità? Sicuramente uno dei punti importanti ad esempio il tema della sicurezza abbiamo la nostra città che ha l'esigenza e richiede sicurezza i nostri figli possono e devono stare in tranquillità in città ci vogliono delle regole regole che devono essere grazie anche secondo me a un vero e proprio ragionamento e una comunicazione con le forze dell'ordine sicurezza che deve essere comunque applicata in città Restiamo a Catani agenti di polizia del commissariato Onesimo in via Capopassolo al quinto piano di uno stabile in modo ben occultato negli spazi comuni hanno rinvenuto sei pistole semi-automatiche di vario calibro una con il colpo in canna due mitra un fucile oltre mille munizioni di vario calibro e tipo un silenziatore un revelatore di segnale un disturbatore di segnale e altra attrezzatura elettronica specifica per agevolare l'attività criminale 202 involucri tra crack e cocaina pronti per la vendita sono in corso accertamenti per risalire all'individuazione di chi avesse la materiale disponibilità delle armi e se questi siano stati utilizzati per fatti delittuosi e ancora strutture abusive carenze igieniche cibi scaduti o privi di tracciabilità e quanto hanno accertato i carabinieri del NAS durante 883 controlli compiuti in tutta Italia negli stabilimenti balneari nei villaggi turistici ne sono risultati irregolari 257 pari al 31% di quelli ispezionati sono state contestate 415 sanzioni penali amministrative per oltre 290 mila euro disposti 20 provvedimenti di chiusura a causa di gravi criticità strutturali e igieniche per un valore economico stimato in oltre 4 milioni di euro nei punti ristoro interni alle strutture sono state sequestrate oltre 2 tonnellate di alimenti irregolari destinati alla somministrazione della clientela risultati scaduti di validità privi di tracciabilità e conservati in cattivo stato di conservazione i carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato anche 90 litri di olio di liva condizionato all'interno di contenitori privi di etichetta in evidente stato di irrancidimento e 5 kg di carne in cattivo stato di conservazione oggi 10 di agosto la notte di San Lorenzo quella in cui ognuno guardando in cielo e sperando di vedere una stella cadente esprime i propri desideri sentiamo c'è chi attende la notte a cavallo tra il 9 e il 10 di agosto chi invece attende quella tra il 10 e l'11 poco importa l'occasione per stare col naso all'insù alla ricerca delle lacrime di San Lorenzo serenità pace ed unione familiare tra i desideri della gente che non vuole perdersi le stelle cadenti della notte più magica dell'anno una tradizione che trae origine dalla leggenda del martirio di San Lorenzo che fu arsovivo su una graticola si narra che nel momento della sua morte la forma delle stelle cadenti ricordasse i tizzoni ardenti che hanno portato il santo alla sua tragica fine tornando ai giorni nostri la notte in cui vedere il maggior numero di brillanti scie solcare il cielo non è solo questa il 10 agosto infatti rappresenta la data attorno alla quale si verifica la pioggia di stelle ma quest'anno si è cominciato già da metà luglio con un apice che arriverà il 13 agosto a Catania ci si prepara ma non lo so noi siamo pugliesi e siamo qui in vacanza senta una stella cadente è l'occasione per esprimere un desiderio quale secondo lei potrebbe essere uno da esprimere? la mia famiglia si è sempre unita stiamo iniziando siamo appena arrivati quindi oggi festeggiamo questa festa qual è il programma da dove venite? noi siamo di qui di Catania oggi stiamo trascorrendo la giornata qui alla playa forse andremo a San Giovanni Licuti a Ognina noi se faremo un giretto stasera contiamo le stelle un desiderio che sia di tranquillità di felicità serenità e perché no anche di amore ecco anche da parte tua un desiderio speciale che vuoi esprimere questa sera? sicuramente di serenità anche perché veniamo da un periodo insomma difficile complicato negli anni passati quindi speriamo che invece ritorni tutto alla tranquillità anche dopo i giorni di caldo insomma e niente speriamo di vederle queste stelle perché ogni anno poi a San Lorenzo proprio a San Lorenzo il 10 agosto non si vedono mai quindi speriamo invece che stasera ci siano insomma i desideri che si esprimono adesso sono quelli di serenità tranquillità una volta c'era più soldi più fortuna non più no no non ci speriamo più quello abbiamo verso le speranze hanno detto che praticamente si è allungato non è più il 10 ma è il 12 quindi avremmo tutto metà agosto per vedere queste stelle aspetta ma lei le cerca queste stelle? sì esprimo un desiderio grande riunire la mia famiglia se vanno migliore anche per la mia famiglia è la prima cosa che una si augura il benessere il benessere fin quando funziona allora arriva il benessere ma se le cose non funzionano il benessere non c'è per nessuno la mattina devo aprire gli ombrelloni quindi devo svegliarmi presto ma solitamente non so c'è un desiderio che lei esprimerebbe guardando una stella cadente? in questo momento di essere con la mia fidanzata che è partita ieri vive fuori? viviamo a Padova allora lanciamole un messaggio eh ti amo tra poco torno lei è un bimbo piccolo prima di avere suo figlio San Lorenzo era di notte in spiaggia a guardare le stelle prima di avere un bimbo adesso non più? non lo so quest'anno sarebbe la prima volta per lui perché era troppo piccolo l'anno scorso quindi vediamo un desiderio che si sente di esprimere la salute per la mia famiglia e a proposito degli incendi delle scorse settimane una famiglia ha presentato il racconto alla comune di Palermo al comando dei vigili del fuoco e al ministero degli interni la famiglia ha chiesto il risarcimento per un milione di euro per i danni provocati dalle fiamme che hanno investito l'abitazione danneggiandola pesantemente in quei giorni ci sono state grandi difficoltà nei soccorsi in quanto Palermo era circondata dai roghi le forze in campo visti i fronti aperti non riuscirono a fronteggiare gli incendi in tutti i luoghi dove questi si verificarono e adesso invece trasferiamoci a riposto sede di un importante porto turistico che diventa anche un punto nodale per lo sviluppo turistico del territorio 1200 transiti nel 2022 i nomi rigorosamente tutti top secret sicuramente da queste parti i grandi star internazionali dello sport del cinema e della musica e poi i grandi imprenditori di tutto il mondo al porto turistico di riposto e ordinare amministrazione qui dove un gruppo societario riuscì 20 anni fa a realizzare quella che oggi può certamente essere definita come porta d'ingresso della città di Taormina la scelta di affidare le redini al presidente Giuseppe Zappala imprenditore innamorato del mare oggi questa eredità importante raccolta dal figlio Mario che è amministratore delegato della realtà che ad agosto si prepara ad un nuovo clou con numeri in netta crescita il bilancio è sicuramente positivo devo dire che anche durante il covid non abbiamo a differenza delle altre marine non abbiamo sofferto dopo c'è stata un boom incredibile abbiamo fino adesso già l'anno scorso abbiamo avuto un incremento ma ad oggi nel 2023 abbiamo già un più 30% circa mio padre era un amante è stato sempre un amante del mare io mio fratello che siamo i soci di riferimento di mare di riposta di maggioranza siamo diciamo siamo nati a mare mio padre motivo per cui avendo questa passione ha realizzato l'idea chiaramente non nasce da mio padre nasce da una compaggia societaria chiaramente la compaggia societaria riconoscendo il mio padre una persona preparata ha dato diciamo carta bianca e ha realizzato un porto con con la mentalità e ci tengo a sottolinearlo da utente quindi con tutti i servizi che possono esserci non un porto di una marina le personalità eccellenti che hanno calcato queste banchine sì allora purtroppo c'è la privacy quindi non possiamo teoricamente non possiamo sapere ma poi alla fine riscono fuori riscono fuori Bernie Eccleston tantissimi cantanti circa un mese fa è avuto Michael Jordan noi siamo assolutamente il porto diciamo di Taormina perché in Taormina non c'è porto siamo soltanto 6-8 miglia quindi sicuramente le barche che sono in transito gli armatori proprietari delle barche hanno come punto di riferimento il porto e orgogliosamente offrendo i servizi con la qualità con l'impegno con la dedizione che siamo soliti dare abbiamo fidelizzato un gran numero e col passaparola con le agenzie e tutto riusciamo a incrementare il flusso nuova propulsione dall'Infopoint inaugurato frutto di una intesa tra comune Proloco e Marina di Riposto proprio in brevissimo tempo siamo riusciti a creare soprattutto questa collaborazione insieme la Proloco e al Marina di Riposto è stata un'idea sì nata sostanzialmente a giugno durante tra l'altro le festività del nostro patrono San Pietro con il direttore Leo Biasi un fiore all'occhiello devo dire per la Proloco di Riposto ma per le Proloco di tutta l'area Ionico e Tennea un punto molto importante per l'accoglienza turistica un punto importante per il raccordo con tutta l'area che circonda Riposto che circonda questa importante infrastruttura turistica che è sicuramente per l'area Ionico e Tennea il punto di riferimento e che vuole essere anche un momento per collegare in modo diretto il mare con la montagna ma il mare con un po' tutto quello che sono i comuni attorno a Riposto e questa estate 2023 sarà ricordata lungo il litorale Ionico acese per l'attività delle tartarughe Carretta Carretta nei giorni scorsi la deposizione di uova nella spiaggetta di Pozzillo frazione a mare dopo il tentativo non andato a buon fine a Stazzo adesso altre uova sono state deposte a Capomolini in un'area che viene continuamente monitorata sentiamo record di nidi di tartarughe Carretta Carretta nelle nostre coste in questa caldissima estate il cambiamento climatico e il surriscaldamento del Mediterraneo con temperature superficiale anche di 3-5 gradi superiore alla norma del periodo sta spostando sempre di più l'area di nidificazione delle tartarughe marina verso il Mediterraneo abbiamo seguito la vicenda della Caretta Carretta approdata qualche giorno fa a Capomolini ribattezzata da ricercatori come Morgana dopo aver deposto le sue uova stavolta indisturbata si è allontanata lasciando il suo prezioso carico sotto la sabbia l'area subito recintata con transenne e avvisi viene monitorata ed emeta di costanti controlli da parte dei volontari del WWF che assicurano che il sito non venga violato o venga ricoperto dall'ombra abbassando le temperature del nido compromettendo la schiusa delle uova ci siamo recati nella spiaggetta di Capomolini gremita di bagnanti e curiosi il religioso silenzio accanto al nido della caretta caretta si siamo venuti qui a fare un bagno sappiamo che ci sono le uova è arrivata una tartaruga di notte ha deposto queste uova e viene il personale del WWF a controllare è una bellissima cosa molto bella già stamattina sono venute due squadre a controllare a recintare hanno messo altri cartelli per non fare arrivare l'ombra nella buca non si era mai verificata una cosa simile io non me lo ricordo proprio mai vista una cosa simile è bello questi animali marini ovviamente come le tartarughe anche gli squali preferiscono la corrente di acqua calda quindi con queste temperature alte ovviamente la corrente li spinge verso l'acqua è più calda speriamo che la gente sapendo questa situazione non vada lì dentro a scavare per capire com'è l'uovo oppure se li vorrebbero anche portare a casa perché potrebbe succedere infatti la nostra preoccupazione è anche questa perché ce n'è di gente che magari non lo capisce forse vogliono fare un bene invece è una cosa sbagliata per me qui è la prima volta che succede quindi non non ho mai c'è visto una roba del genere una cosa comunque bella lei è in vacanza qui vengo tutti gli anni qua a Capomolini sono anche nativo da Cireale e niente abbiamo visto questo bellissimo evento ci hanno raccontato qui il custode qua delle barche che qualche giorno fa alla sera verso le undici e mezza è arrivata questa tartaruga e ha depositato le uova un evento veramente eccezionale bellissimo il WWF è passato più volte stamattina per controllare il sito? sì assolutamente l'hanno controllato hanno recintato tutto l'altro giorno è venuto anche un biologo un marino che ha controllato se ci sono le uova hanno verificato che ci sono e quindi è tutto confermato e tra qualche mese sicuramente nasceranno le tartarughe piccoline a pochi metri dal nido di Morgana la caretta caretta che ha deciso di nidificare qui lei era presente? sì ero presente è arrivata la biologa con la sua assistente e hanno verificato se effettivamente sotto c'erano queste uova e ho assistito però è stata una cosa emozionante perché io francamente non le avevo mai viste e sono da tanti anni che vengo qua in Sicilia la prima volta che mi capita di assistere a una cosa del genere per me è una cosa molto emozionante ci fermiamo linea alla regia tra poco per il meteo bene non ci sono ulteriori aggiornamenti vediamo dunque il meteo per la giornata di domani previsioni meteorologiche in Sicilia per domani 11 agosto 2023 il sole splenderà ovunque i mari saranno calmi le temperature previste tra minime e massime con il picco più alto che si registrerà in tre località Agrigento Siracusa e Catania nella capoluogo Atteneo 21 la minima abbiamo concluso vi ricordo che potete seguire questa edizione della telegiornale sul sito reitv.it e sui nostri canali social il prossimo appuntamento con l'informazione è rinviato a domani a partire dalle 14 ringrazio in regia Fulvio Ferrauto e vi auguro il buon proseguimento di serata Fulvio Ferrauto